Ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato presso l'ex Convento dei Minimi a Roccella Ionica l'iniziativa denominata Musica e Solidarietà, che ha visto l'esibizione di Maria Beatrice Zoccali. Un evento benefico a favore dell'Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro e della Lions Club International. Una giornata all'insegna della musica e della solidarietà. Una parte del ricavato è stata infatti destinata alla ricerca del cancro infantile. I Lions Club operano in vari campi per la ricerca sul cancro, per la fame, per lo sviluppo delle attività del territorio, per la vista. Ci sono varie tematiche. Questa attività, questo concerto, noi abbiamo voluto dedicarlo alla ricerca sul cancro infantile perché questo mese di febbraio è il mese Lions per la ricerca sul cancro infantile. Quindi doneremo una parte del ricavato di questa serata a questa attività specifica. Io ringrazio tutti i presenti. Mi fa veramente piacere vedervi in questa sala, in questa sala, vederla quasi piena e quindi vuol dire che è importante. Noi avevamo, a parte la nostra attività Lions, noi avevamo uno scopo, abbiamo uno scopo come Lions Club, quello di coinvolgere il territorio. Infatti in questa attività, poi vedete che ci sono delle associazioni che hanno collaborato all'organizzazione di questa serata. Grazie. 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 Grazie.